Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Undertale, la serie più corta che esista ma è infinita sul nostro canale l'unico che porta 30.000 serie in un giorno solo ma vabbè, non parlo con tutti, sennò qua faccio un video solo per parlare con tutti perché mi sto mettendo a girare? ha parecchie difficoltà questa persona, meglio che lo lascio da solo, che magari si incavola com'è non lo so, sono tutti arrabbiati qua questo mi sembra MTT, che sarebbe un appreviamento per Mettaton, se non l'avete ancora capito benvenuto al Mettaton Brand Burger Emporium, credo che abbiate capito cosa sia, spero si, casa del Glam Burger, ok, compra mmm, Legendary Hero wow, 40 HP, ma dato che io ne ho solo 20, credo che sia un po' inutile comprare uno da 27 quindi prenderò questo oh mio dio che faccia che fa quando compro... grazie, abbi... buonissima giornata, qualcosa di simile no, non ho più spazio quindi che tu abbia uno sparkular giorno è un'offesa oh, finalmente al core, al nucleo, come volete chiamar... ehi, complottisti c'è qualcosa qui per voi eh? che cosa sono? nessuno dovrebbe essere qui ah, vabbè, non possiamo preoccuparci di tutto quello che c'è in giro lo so, ho prolungato un po' troppo la frase, non sarebbe quello significato, ma, perso a poco si chiama di nuovo pronto? è arrivato prendi il... prendi l'ascensore per andare al... alla cima del nucleo eh? oh, Levi! e non funziona perchè dovrebbe funzionare secondo te? pensi che sia così facile nel gioco? eh? l'ascensore dovrebbe funzionare mh... beh, vai a destra e... e con... vai a destra e sempre dritto è questa la destra? si mh? benissimo, ora devi solo andare dritto eh... è un... eh? c'è un buco sulla mia mappa ma dimenticalo allora prova alla sinistra è tutto in fiamme, cosa vado? vai sempre dritto, ma... ho detto sempre dritto, ok ok, appunto, dovresti... dovresti farsela qui mh... esatto, complottisti... attento complottisti... che starò... magic arriva davanti a te... papaparabapapa... ah no, non è Pokémon, scusate eh... no, non posso neanche scappare, peccato... sentite un tonk, sono io che... che schiaccio la tastiera con una cattiveria che... eh... fissa... no... clear mind, forse... clear mind... vabbè, però, eh... ignori magic e... e pensi a... polline e... e luce del sole... abbracadabra... oh mi hai fucking... mi spara i crocifissi... ma dove... che cavolo di gioco è? siamo diventati... e ho preso anche danno... mi ha tirato un... un crocifisso stellare... eh... cosa devo... cosa devo osservare... eh... vabbè, vada quella prima... eh... ah... ah... quella a sinistra si è indebolita... abbracadabra... nope... cavolo, è poter... è parecchio... si è incattivito... perché ho fissato una delle sue orbe... io li chiamo orbe, ma... eh... corner... ah... si è indebolita anche quella... benissimo... abbracadabra... e basta spararmi i crocifissi... sembra una religione... sembra una religione di catechismo, cavolo... ah... ok... posso... posso risparmiarlo... eh... era ora... ma non erano in due... cavolo... quello era vicino... era... era vicino, eh... poi ci sono così tanti mostri qui... intendo... non c'è nessun problema, vero? dobbiamo solo andare avanti... click... click... e per quello potevo anche fare a meno di tradurlo... sembra che tu non puoi andare avanti... finché non... finché non premerai la leva... ma... qui laser... ma qui laser si attiveranno quando lo farai... mmm... sembra che dovrebbe... che... sembra che dovrebbe arrivare in quest'ordine... arancione... arancione blu... capito? ho capito... muoviti fino al terzo... beh... non è che... non è diffici... e cosa fa... cosa fa... si muove... ah... ma me le date sbagliate... oh ca... sei a posto? oh... scusa... ti ho dato l'ordine sbagliato... me ne sono accorto... ma va tutto bene... ok... continua ad andare avanti... eh... si ok... vabbè... ha sbagliato... ma va bene... dai... non mi cavolo neanche tanto... ah... una... una crocevia... crocevia... un... un... non mi viene il nome... non mi viene... no... voglio farlo bene... un... un incrocio... oh... che cavolo... una crocevia... eh... provo ad andare a destra... ok... destra... 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 aspetta... no... penso che tu dovresti andare su... va bene... perchè... e già la seconda volta... ma questo qua è una storia... è una storia figata... cos'è? lo voglio in casa mia... anche se... vedo... mi interessa... lo voglio in casa mia... appunto e basta... eh... cavoli... night night... ah... night night... no... non so se è un gioco di parole o... ah... canta... canta... ah... canti una ninna nanna... il... consigli... sembra... sembra... eh... sembra assonnato... cos'è sta roba... mai... oh mio dio... che dai... sembra una mossa di Pokémon... veramente... canta ancora... e... chiudi... chiudi un po' i suoi occhi... good... no... si... era un gioco di parole... ora mi spara al sole... questo qua è Soleir... e... canta ancora... e si addormenta... bzzzzzz... oh... 70 di oro... non... non è poco... scusa... io... pensavo che... sì... anch'io pensavo che fosse giusto su... sto sincero... eh... allora proviamo a destra... beh... a meno che non vogliamo tornare indietro... va bene... pensavo anche io di andare su però eh... quindi... non mi cavolo ne che tanto... hm... hm... ancora il laser... ok... io non voglio far casino questa volta disattiverò i laser ti farò passare sono non si stanno spegnendo non posso spegnerli ma va bene ho tutto sotto controllo e spegnerò spegnerò l'elettricità tiro sull'elettricità per un po in modo che tu possa passare oltre ok vai 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 non attivarti 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 aspetta sfermati l'elettricità torna da sola che cavolo non dovrebbe io la spegnerò di nuovo quando si ok quando si spegne muoviti un fermati ok non ti farai male avanti 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 ma si capisce quando si vede e io pensavo che dovesse andare intuito proprio totalmente visto ho tutto sotto controllo tutto sotto controllo e adesso cosa c'è ok ora dovresti siamo già 8 minuti cavolo però va veloce quando giochi a danner team qui dovresti dovresti non lo so sembra non sembra proprio la mia ma non sembra proprio che sia uguale alla mia mappa e scusa io devo andare grazie ecco ora sono da soli benissimo ah l'aria è piena di odori di ozono e ti riempie di ruminazione come tutto quello in questo mondo e qua vedo dei ghiacci quelli che non nemmeno erano quelli che ci sono che c'erano ancora snowdin i ricordi e questo è ah c'è un glamburger dentro il cestino lo prendi stai portando troppo giusto 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 controlli se non sbaglio item item mira drop butto via le balle che tanto a me non serve l'attacco qui quindi che ma mi chiedo ancora ma perchè ce le ho non mi serve si lo prendo e preso lo glamburger ma chi è che ha avuta spero sia ancora decontaminato che sennò prendiamo più 200 radiazioni si sto giocando troppo con l'auto devo portare non è che gioco troppo è che ieri ho fatto una raccolta rifiuti quella lì che vi dicevo ma dopo vado a fare una raccolta rifiuti sto facendo un giro di un labirinto ok così dicevo facendo una raccolta rifiuti infatti sono andato a farla e e comunque mi sono ritrovato di nuovo malon smilzo e l'ho fatto fuori non è difficilissimo non mi ha droppato nulla di importante uno smoking visto non è importantissimo ci sono 100 di oro che è che buttavi i soldi wow non mi lamenta ma chi è che buttavi i soldi 100 di oro a meno che non sia metatone che buttas no aspetta è un è un vabbè andiamo su andiamo su non può essere così non può essere così e uno wimsalot e final frogget wow ah è frogget digi evoluto oh ma no è fortissimo e sembra fortissimo scusa wimsalot console allora io non mi ricordo teorizzo no prei forse faccio console console cos'è una ps4 una console disiscrivetevi subito ah dici a un insolito che quello che fa va bene oh mi sono rapacificato si ok ma non sparami roba se sei rapacificato oh ma ma matrix mi fa una prei di nuovo prei ah capito tu preghi per la tua salvezza e wimsalot si ricorda ah si ti dice non arrenderti testa di di qualcosa ah però è però quel altro mi ok wimsalot è a posto non so se risparmi si si che magari uff wow attenzione una run over power mi sta saltando addosso oh my god mi sembra un niente complimenter ah ti attacca e si no per essi ti attacca scusate ti attacca e ti complimenti con lui ti capisce perfettamente il suo attacco diminuisce al minimo o almeno così mi sembra di aver letto ci è mancato poco eh 310 mystify che so hai fatto qualcosa di misterioso final frog it eh e capisce che ha ah che ha che ha più da imparare da questo in questo mondo mmm final frog it è il re dei frog it mi sembra e guarda la corona in testa risparmia erano cattivi quelli lì e un altro cattivo un'altra cattiva persona mmm i mercenari emergono dalle ombre beh l'ha detto l'ha detto come se fosse una roba tipo oh mio dio si ignite night good night io ti 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 sparo spacco la bocca non chiedetemi da dove e lo schivate vabbè si di nuovo lo facciamo addormentare così spero che dopo che ah spari i crocifissi alla velocità della luce come non ho detto oh si addormenta non mi spa ok possiamo anche lasciarlo così night night che tanto non ci dà fastidio stare clear mind talk talk eh ah ti interrompe mentre parli e e ti gibberis dizzisio non so cosa vuol dire ma la tua difesa difesa cala oh my fucking god che sta succedendo va tutto al contrario però ah ma giusti ah però se li parli ti puoi risparmiare la logia da subito 130 di oro ma qua ci qua ci compriamo il mondo che incu c'è scritto che incu ma va su serio quello là quel quella quel come si chiama quel janger ha fatto male non me lo ricordavo non ti dimmi se non sembra un janger Wimsalot pray non solo l'altra volta ho fatto pray e quindi ha funzionato prendi le parti verdi cioè non blu che cazzo e che cavolo ho detto una brutta parola sparatemi junk food che tanto max e però Wimsalot ma se mi sei rapacificato perché mi perché mi attacchi lo sei certo che è un casino e via uno e ora si che oh neanche non è che non si molto devo stare astigmatismo ah non so gazis guarda attraverso la tua anima qualcosa di simile sai un final ferroget che un'altra volta abbiamo abbiamo ce l'abbiamo fatta c'è e ora sappiamo final ferroget sappiamo come si fa che sta succedendo che me ne andate come come se fosse un cioè ne ho preso è volato uno schiaffo no sono volati due schiaffi ne ho presi tre oh max tanto dopo torno dal metatone mi faccio riforme mi menti ma devo stare l'ultimo l'ultimo veramente è stata una roba cattiva punto 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 ora astigmatismo fatemi fare mentre lo ca era tanto tanto così dalla mia faccia pick no don't pick don't pick on non non lo fissi finalmente qualcuno che l'ha capito si perché mi ricordavo che diceva don't non fissarmi e quindi ho fatto non fissarlo e 150 di 150 e basta e la leva mistica oh una leva non è che mi trovo il boss finale dietro no ah bene bene almeno un gioco dove non ci sono stronti ho detto una brutta parola lo so no con la cestina se non sbaglio c'era una ecco infatti una porta sinistra brutti ricordi anche se non può essere ok così giù aiuto ok ce l'ho quasi perfetto come ho fatto a farlo così in fretta così in fretta l'altra volta sono stato bloccato mezz'ora mezz'ora ma di no un secondo e ora ora se non sbaglio c'è la porta libera di qua si di qua 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 era bloccato si era qua bloccato se non sbaglio e ora astigmatismo dai astigmatismo bravo non fissare appunto ti dice non fissarmi e io che ti fissa scusa sei inquietante come poche robe sono inquietanti ah potevo anche scappare questa cosa qua da questo cosa qui ora 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 quella quella è la zona finale quindi funziona si no qui qui si va verso la fine no no scusate scusate no avete frainteso o almeno io ho frainteso nel mio subconscio qui c'è qui finiamo le hotland e il core o almeno così mi ricordo che lo faremo nel prossimo episodio perché siamo già abbiamo fatto tanto io pensavo vabbè 8 minuti arrivo così finisco tutto ma che ma dove mi sono preso troppo anche se vabbè 16 17 17 minuti in punto povero ora si faccio la prossima volta perché sennò vi è fuori un video di mille minuti quindi tanto vale che ne faccio pochi così in modo da organizzare meglio e dopo questo spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie e le prossime che verranno e quelle che ci sono adesso che non fa mai male guardarsi un altro video ciao a tutti